Alfano sapeva della necessità per i cazzachi di rintracciare Ablyazov, ma non sapeva che la vicenda avrebbe potuto coinvolgere la moglie e la figlia. Il prefetto Giuseppe Procaccini, ex capo di gabinetto del ministro degli interni, Angelino Alfano, conferma i contenuti di una recente intervista al PM Eugenio Albamonte, che indaga sulla vicenda di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente cazzaco Mukhtar Ablyazov, rimpatriata insieme alla figlia Aloa di 6 anni il 31 maggio da Roma. La donna venne espulsa al termine di una complessa e discussa perquisizione a casa al Palocco. Almeno 50 agenti italiani in contatto costante con i vertici della marsciata kazaka cercavano il miliardario Ablyazov inseguito da un mandato internazionale. L'oligarca fu arrestato qualche mese dopo in Francia ed è stato dichiarato estradabile in Russia. L'espulsione delle due donne avvenne in tempi rapidissimi in forza di un provvedimento firmato dal prefetto della capitale Giuseppe Pecoraro, poi dichiarato illegittimo e revocato dal governo. Il ministro degli esteri, Emma Bonino, commentò la conica, figura miserevole. Procaccini spiega di averne parlato due volte con il responsabile del Dicastero. Alfano mi parlò di un grave rischio per la sicurezza nazionale, spiega Procaccini, poi sottolinea di aver saputo solo il 2 giugno di quanto è accaduto ad Alma Shalabayeva e la figlia. Quel giorno Alfano mi riferì del colloquio del ministro Bonino e mi chiese di informarmi, spiega Procaccini. Fu quella la prima occasione in cui appresi che nella vicenda c'erano una donna e sua figlia. Tornata libera e ricevuta in Italia dal ministro Bonino, Alma Shalabayeva e la famiglia ringraziarono i media e la Farnesina.